buongiorno benvenuti alla segna stampa di oggi 23 agosto vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata per capire cosa hanno visto i giornali la questione fondamentale secondo tutti quanti giornali siti li vedete anche ora è la lite tra salvini e fico questa è la sintesi fatta dalla corriere della sera che è stato forse il più sobrio di tutti intendendo in questo la lite del presidente della camera e ministro degli interni sulla questione della nave 18 dove sapete della guardia di finanza della guardia costiera in cui ci sono 177 persone a bordo di cui mi sembra 26 minori non accompagnati che sono stati già sbarcati la tesi del correre della sera nonostante il titolo molto sobrio è quella di polito per raggiungere degli obiettivi politici bisogna non bisogna muoversi fuori dalla legge sostanzialmente si accusa salvini di essersi muoce fuori dalla legge né non voler avere in casa questi 177 clandestini fino a prova contraria in realtà non è così perché la sapete che le leggi internazionali dicono che così non è e la questione è molto dibattuta anche perché secondo un accordo che non è vincolante fatto con l'unione europea una parte di queste persone li dovrebbe prendere anche il resto dell'europa ed è quello che sta attendendo salvini ma su questa vicenda le letture dei giornali sono molto diversi mentre salvini tiene a largo questa barca perché dice non deve essere se non per motivi umanitari quindi può prodare a catania possiamo prendere i minori ma non vogliamo questi queste persone e ci sono varie interpretazioni dei giornali salvini contro mattarella conte fico e ipm è il titolo del fatto manca babbo natale ma salvini è contro tutti secondo il fatto che come sapete è lo strillone del momento 5 stelle quindi da il senso di quello che è una parte del momento 5 stelle cioè quella di fico e non solo pensa l'altra componente invece del governo quello rappresentato dalla verità intendo componente diciamo giornalistica dice nave 18 ipm contro salvini questo aspetto dei pm contro i salvini quello che prende anche il giornale che dice vogliono arrestare salvini la procura infatti apre un'indagine sul sequestro di persona allora su questo devo dire la verità la cosa è molto semplice cioè il punto fondamentale che quando lo scontro politico diventa scontro giudiziario l'abbiamo visto nel passato in questo caso è sull'immigrazione non viene niente di buono un interessante commento che oggi vi segnalo è quello di gaiani sul messaggero il quale dice attenzione perché se spostiamo ovviamente sulla politica e non sulla questione giudiziaria perché purtroppo quando spessiamo le cose su questione giudiziaria sono sempre guai mostruosi e non si riesce mai risolvere nulla pensate un po voi se noi dobbiamo affidarci a una procura di catania di aggrigento per capire se giusto o sbagliato un atto così politico e anche estremo come quello di salvini peraltro anche è incredibile che sia la magistratura in un paese in cui oggi per altro verso diceva la politica che dovrebbe riapproparsi degli sospazi veneziani debba decidere la politica dell'immigrazione italiana quasi come se fosse una ong qualsiasi devo dire con un rilievo costituzionale come quello della magistratura di difesa della costituzione ma gaiani ritorniamo alla politica che cosa ci racconta gaiani ci dice che anche miniti il ministro degli interni del governo pd e si fece un sacco di nemici all'interno del governo per le sue politiche diciamo sull'immigrazione e soprattutto da quell'area del mediterraneo vi ricorderete tutte quante le polemiche da parte della sinistra del pd sul fatto di come venivano tenute le persone in libia perché questo può essere il secondo fronte passiamo dal sequestro di persone che ne so a omessa e che ne so a tortura la putativa non sono così bravo a definire i termini giuridici ma insomma se la magistratura entra non ce n'è per nessuno e inoltre ricorda gaiani non le questioni del magistrato ma ricorda le questioni diciamo più politiche come anche in quel caso su miniti fu il presidente della camera all'epoca boldrini e non fico a prendersela sulla immigrazione secondo grande tema di giornata e le autostrade ovviamente apro un inciso e chiudo un inciso dieci morti invece per il parco nazionale tra il basilicato e calabria sono arrivati a pagina 50 quei dieci morti non contano che sono dieci morti di stato o comunque di qualcuno che non ha controllato in quel caso già l'abbiamo rubricata come una tragedia naturale qualche cosa che può avvenire imperizia delle persone mentre è evidente che quello che è avvenuto come ha detto un uomo della protezione civile come ho scritto sul mio sito lo trovate nicolavoro punto it protezione civile ha detto era un evento facilmente prevedibile se era facilmente prevedibile era ovviamente evitabile ma siccome lì non c'è un privato non c'era wall disney che gestisce il parco nazionale del pollino ma ci sono enti comuni direttive burocrazia e a pagina 40 nessuno è responsabile di questi dieci morti ritorniamo ai 40 morti delle autostrade beh sui 40 morti delle autostrade ci sono due tre considerazioni la prima che le autostrade oggi con un colpo geniale da un punto di vista comunicativo dicono attenzione perché dobbiamo avere anche attenzione confronti dei piccoli risparmiatori azionisti di atlantica che hanno visto perdere 5 miliardi di euro di capitalizzazione negli ultimi dieci giorni amici miei di benetton io cerco di essere equilibrato di raccontare le cose so perfettamente che le autostrade italiane rischiano di diventare autostrade straniere nei prossimi anni per queste cazzate che avete combinato voi ma una cosa ve la devo dire un po di empatia saper comunicare ma è immaginabile oggi che le autostrade con un soggetto economico come benetton che ne detengono il 30 per cento non sappiano altro che dire pensate ai mercati pensate ai piccoli risparmiatori ragazzi ma vivete in un mondo normale o vivete nel mondo dei maglioncini di toscani qualcuno potrebbe dire qualche giornale in maniera goffa nel mondo delle grigliate a cortina a me non è fotte nulla di questo ma il mondo in cui vivono è il mondo che ci racconta franco becchis oggi sulla verità in cui un consigliere di autostrade il giorno della tragedia si mette a comprare 240 mila lui e la moglie azioni di autostrade perché sa che dopo il meno 20 per cento sarebbero rimbalzate allora mi chiedo questa è la logica di questi caproni che non sono connessi al mondo reale troppi investitori finanziari troppi mercati troppe borse che io adoro sono un liberista non ho nessun problemi non ho non penso che sono in mano del soluto ma quando ci sono 40 morti forse di avere un po di empatia con un paese un po di empatia con la politica un po di empatia con quello che è avvenuto non sarebbe sbagliato lo dico come qualche volta la comunicazione ha un senso e in questo caso loro ci dimostrano che non hanno la più pallida idea i cari amici benetton nel frattempo la guardia di finanza sequestra telefonini pc usati dai vertici aziendali per scoprire se si sono nascosti qualche informazione segreta su questo ponte e addirittura hanno sequestrato la concessione cosa che mi viene da ridere è la cosa agli italiane no? cioè arriva la guardia di finanza con le pistole tutti quanti armati che cazzo fanno? vanno alle autostrade italiane e sequestrano la convenzione la concessione forse andavano al ministero facevano prima ma comunque così funziona la giustizia italiana oggi i giornali punto titolano su questi sequesti la guardia di finanza sull'atlantia che torna all'attacco atlantia la società de benettoni io se fossi un manager dell'autostrade un comunicatore dell'autostrade per esempio andrei a fare solo una cosa andrei a smontare le fake news della minchia che stanno uscendo in questo momento invece di attaccare dicendo pensate piccoli spalmatori cosa verosimile vera ormai è andata cioè ormai mettetevela in pace chi ha avuto le azioni di autostrade se le è prese in quel posto questo evento questo cigno nero questo invece attacco diciamo mediatico è inevitabile se muoiono 40 persone molto invece buona la pezzo di cottarelli che ci spiega meglio di tutti sulla stampa perché sono diminuiti i titoli di stato in mano agli stranieri da 70 di 70 miliardi che vuol dire che il 31 per cento del nostro montagna in debito pubblico in mani straniere il resto in tutto in mani italiane una gran parte nelle mani delle banche italiane e cottarelli ci spiega perché non è così buono il fatto che sia in mano alle banche italiane perché legano troppo le loro fortune ai titoli di stato italiani l'ultima cosa di cui voglio parlare è il pezzo di marco travaglio oggi ed è una specie di capolavoro dell'ipocrisia e del tartufismo del giornalismo italiano io vi invito francamente a leggere il pezzo di travaglio in cui travaglio in maniera subdola e non diretta ma difende asi argendo sulla questione del sesso orale nei confronti di un attore 17enne la difende con degli strumenti che vi danno il senso della cattiva fede di marco travaglio ma me la dico perché è incredibile pezzo di oggi io non ci potevo credere nel leggerlo vedete io sono convintissimo che questo ragazzino di 17 anni abbia abusato della situazione in cui si trovava per potersi portare a casa 380 mila euro che è il patteggiamento che ha fatto con la lase argento non mi fa nessuna pena io non credo che questo ragazzo sia stato voglio dire sia stato in quelle condizioni che ci viene in queste turbe psicologiche per cui non abbia più fatto l'attore dopo il sesso orale con asia argento così che però come non penso che asia argento sia questa eroina del me too ma le cose di travaglio su cui voglio andare a leggere dice intanto su weinstein weinstein non è stato condannato però pare proprio che sia colpevole secondo il giudizio morale di marco travaglio perciò weinstein è sicuramente colpevole pare che sia colpevole perché non è stato anche se non è stato condannato e nonostante asia argento abbia avuto una relazione con lui quindi lui dice pare che sia colpevole nonostante non sia stato condannato e nonostante asia argento abbia avuto una relazione con lui cosa pensa marco travaglio invece di questo ragazzino questo ragazzino è un giovane a torino in disarmo è un giovane a torino in disarmo e inoltre io non ci posso credere ragazzi non ci posso credere mentre asia argento può denunciare weinstein per dopo 20 anni e tutto va bene dice travaglio questo giovane a torino in disarmo e che fa un'accusa tardiva arrivate a cinque anni di distanza dalla violenza sessuale ma scusatevi ma se vale per la torino che ha fatto la denuncia dopo cinque anni non vale altrettanto per asia argento che non solo era la compagna di weinstein ma la denuncia l'ha fatta dopo 20 di anni cioè non vale per tutti e due la stessa cosa no il giovane a torino in disarmo non può denunciare dopo cinque anni invece la giovane a torina in totale confusione mentale può denunciare dopo 20 poi è l'altra cosa straordinaria travaglio che ci ha spiegato in vent'anni di carriera giornalistica che il sospetto è l'anticamera della verità che se uno patteggia colpevole cioè per lui il patteggiamento giudiziario italiano è sempre colpevolezza lui in genere pagare significa accettare il torto ma non necessariamente in questo caso cioè il fatto che asia argento abbia pagato 380 mila euro e abbia sostanzialmente in maniera stragiudiziale patteggiato non vuol dire accettare il torto mentre lui è uno dei teorici per cui il patteggiamento è sempre l'accettazione del torto beh insomma io vi dico la verità voi leggetevi questo pezzo e riuscite a capire come posso dire la doppia morale che ci può essere e cioè che siccome esergento è l'eroina del mitù va bene invece questo giovane a torino in disarmo cioè un 17enne viene definito un giovane a torino disarmo non gli si dà nessuna credibilità io non gli do nessuna credibilità ma come la do a lui non la do neanche a sergento uno peggio dell'altro direi che per oggi è tutto se vi piace questa zuppa che so che un po ha qualche problema di connessione lo vedo dai segnali qua di fumo se vi piace questa zuppa condividetela sul sito nicolaporro.it tutto il resto